Turno infrasettimanale, valido per la 32esima giornata del Girone BDC, ed è recanatese Gubbio sul sintetico del Tubaldi. 4-4-2 per Pagliari, con guadagni e l'ex sbaffo in attacco. Praglia opta per il 3-4-2-1 con ben 6 variazioni rispetto alla gara di sabato con il Cesena, e 5 under in campo, in attacco spine di Stefano a supporto di Arras a Rene Vasquez, inizialmente in panchina. Occhio al cronometro dopo il calcio d'inizio, perché la sfera da Toscano arriva a Bulevardi, che imbuca sontuosamente in area di Stefano. Controllo con il petto, prima conclusione ciccata sul rientro di Ferrante, ma il susseguente Mancino all'angolino non lascia scampo a Fallani per il fulminio vantaggio rosso-blu. Sono bastati, di fatti, 17 secondi all'ex Sampdoriano per stappare la partita e siglare la terza marcatura stagionale, seconda consecutiva. Nonostante l'immediato vantaggio, il Gubbio non si ferma e cerchi il raddoppio. All'undicesimo super scambio in velocità tra Spina e Arras, l'ex Pianese calcia sul vertice destro dell'area sul primo palo, Fallani in tuffo devia in corner. Al diciannovesimo Toscano vede nel corridoio l'inserimento di Spina, che calcia sporco sull'uscita di Fallani. Il pallone si alza sul secondo palo dove Semeraro è chiuso in corner da Somma. Alla battuta dell'angolo va Spina, sfera respinta al limite dove c'è Toscano che calcia di potenza. Carpani contrae ma la palla resta vagante e con Fallani fuori causa Bonini calibra un mancino verso la porta, deviato però in corner dalla salvifica coscia di Buona. Al ventottesimo da una palla persa in fase di costruzione leopardiana, Di Stefano salta secco foresta e calcia da fuori aria, Fallani blocca. Finisce con il Gubbio avanti 1-0 grazie al gol flash di Di Stefano, la prima frazione di gioco. E nella ripresa Pagliari inserisce subito Peretti per Boni in difesa e l'altro ex di turno, l'esterno offensivo Ferretti, al posto del laterale difensivo Longobardi. Al minuto 54 sbaffo apre sulla destra per Senegallesi che arriva sul fondo e crossa, sul secondo palo c'è Carpani, sponda aerea arretrata per Ferretti che di destro non inquadra la porta grazie anche alla scivolata di Redolfi. Triplo cambio per Braglia, dentro Rosaia, Arena e Vasquez per Boulevardi, Spina e Arras. Al minuto 60 una transizione veloce che nasce da Toscano e passa proprio per Arena consenta Di Stefano di mettere al centro basso da sinistra. A centro aerea c'è Vasquez che di sinistro calcia un autentico rigore in movimento ma Fallani compie un prodigio, sulla ribattuta ci prova ancora Vasquez ma senza trovare la porta. Quindi sbaffo verticalizza per Carpani che si inserisce bene ma sbaglia l'aggancio favorendo la presa di Di Gennaro. Pagliari inserisce Stampete e Rafaro per Carpani e Foresta ma al minuto 66 Arena riceve sulla corsa a destra, taglia verso il centro saltando tre avversari in serie come Birilli. Si sposti il pallone sul mancino e calcia, ancora Fallani risponde presente con sommo attento nel chiudere e subire fallo. Dentro Tazzer per Morelli e poi Vitale per Toscano nel rosso-blu. E appena entrato Vitale viene subito lanciato verso la porta da Rosaia, destro dal limite dell'area di non molto lontano dall'incrocio dei pali. Pagliari si gioca la carta a Marilungo, fuori Morrone e Leopardiane a trazione anteriore nel finale di partita. Ottantatresimo minuto, Arena premia la sovrapposizione di Tazzer che da destra mette basso in mezzo. Fallani smanaccia e Di Stefano viene chiuso in tekel da Raparo, Vitale segue l'azione e raccoglie il pallone sulla corsa a sinistra. Cross a centro area per Vasquez che di testa trafigge Fallani per il raddoppio Eugubino. Sono quattro in campionato le realizzazioni personali per l'attaccante argentino. Cinque complessive e Vasquez era secco da ben 14 partite, le stesse in cui il Gubbio non riusciva a segnare più di una rete in 90 minuti. Poco dopo la Recanatese prova a riaprirla, corner di Senegallesi, torzione di Marilungo di poco alato. Nel recupero con le squadre lunghe ci prova prima Vasquez dal limite ma Fallani blocca, poi sbaffo dalla distanza senza creare patemia di Gennaro. Esulta il Gubbio al triplice fischio di Cervasi per tre punti fortemente voluti che proiettano la compagine di Praglia a quota 49 in sesta piazza solitaria. Staccando di due lunghezze Ponte di Resiena e ora a quattro punti dalla quarta posizione occupata da Ancone e Carrarese con sei partite ancora da giocare. La prossima arriva sabato, ore 17.30, con la Lucchese al Barbetti.